eravamo partiti per salvarci però oramai siamo a 18 punti e puntiamo puntiamo ai playoff siamo terzi da soli vedremo andremo avanti la prossima con casa al grande speriamo di vincere e poi vediamo come cosa fanno le altre il mister ci ha caricato molto prima della partita ci ha fatto capire l'importanza di tre punti vincere voleva dire staccare l'estenza di tre punti di sei punti scuse e quindi è andata bene andata bene ce l'hanno tirata fino alla fine poi abbiamo allungato sul finale loro sono sempre bravi in casa era importantissima ce l'abbiamo fatta forse in romagna è un livello superiore col carpi secondo me in casa possiamo giocarcela fuori abbiamo perso di 10 12 però se ce la mettiamo tutta se facciamo la partita della vita possiamo possiamo farcela è mancata la lucidità giusta sicuramente sul 20 19 purtroppo abbiamo forzato qualche azione il loro portiere ha fatto delle grandi parate e purtroppo in inferiorità ci hanno segnato qualche rete importante dall'ala destra che secondo me è stata decisiva noi sicuramente puntiamo alla salvezza la salvezza diciamo tranquilla cercando ovviamente di giocarcela con tutte le squadre che abbiamo in di fare più punti possibili